Per vedere che è ultimo? La partita di nuovo, la gara, questa volta la partezza regolare, quindi può continuare, 25 giri per percorso a 10.000 metri, sentirete il suono della campana e a meno 22 ci sarà la prima eliminazione. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. a rettilineo l'arrivo per la prossima eliminazione da 30 a 60 si deve far male 60 è eliminata per Marci mi manca un po' la resistenza però ho fatto 5 giri come se non fosse successo niente e adesso 8-7 giri al termine e chi c'è una nuova per l'inizio la 30 a 1-7 si deve far male a rettilineo l'arrivo per la prossima eliminazione la 30 a 1-7 la 30 a 1-8 si deve far male perché è eliminata Nicoli 824 eliminata al passaggio saremo a 15 giri dal termine e come ogni giro c'è un'altra eliminazione tutto il gruppo comunque di segna la 30 a 1-7 si deve far male a rettilineo l'arrivo per la prossima eliminazione la 30 a 1-8 si deve far male a rettilineo l'arrivo per la prossima eliminazione la 30 aiutare e la 30 a 1-7 si deve far male a rettilineo l'arrivo per la right un sacco di subito tσαperi e c'è un sacco di uso capacità di ragione ma la reca eliminata che ritiro di una terra. Quale è tutto? Quale è tutto? Adoro curate. Salta l'immirazone per il ritiro di una trea 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 251 Gallifetti Alice Nellinata Grazie a tutti, grazie a tutti da faro si deve tornare perché è eliminata due salivano è eliminata faccetti sereni sempre tre atlete che hanno preso un buon margine di vantaggio e vediamo chi sarà la prossima eliminata 263-263 sbandone Alessia eliminata io sono Alessia e allora tu sei Alessia no? e io ti faccio la stessa e allora tu sei Alessia no? e allora tu sei Alessia no? 263-263 173 163 163 165 Vincenna una nuova eliminazione, la 3-1-6-1 si deve fermare perché è lignata. Ho il fatto di un'altra reale, è lignata. Vediamo che le 3 fugitive che ci hanno per riuscire. Evidentemente vogliono mantenere le forze per la prova finale. E siamo 1-3. La prima numero 7-7-7 si deve tornare perché è eliminata. La prima numero 7-7 si deve tornare perché è eliminata. E va passando, siamo a 1-2. La prima numero 106 si deve tornare perché è eliminata. 106 è eliminata. Merigi Gaia. Il passaggio sentiremo la campana per l'ultima eliminazione. Quindi, ultima eliminazione, forma campana e volata finale per vedere chi ci giudica la vittoria di questa 10 milandesca eliminazione. 252, Barriani, prepecca, eliminata. Ultima atletta eliminata. E siamo allocattati al finale. Saroni di prima posizione viene attaccato dalla polizia dell'Aesco ma a vincere è Saroni della Polizia dell'Unsco